mi chiede una mano su aspetti di carattere economico lavorativo quello sarà il focus sarà il punto centrale di questo nuovo progetto eccoci qui ben ritrovate e ben ritrovati in un nuovo video l'avrete visto dal titolo sto parlando di un nuovo progetto mi spiego cosa intendo con questo intanto devo partire da una premessa mi trovavo nei giorni scorsi parliamo di parecchi giorni fa a dir la verità infatti avrete visto che ho pubblicato poco negli ultimi tempi perché ho voluto fare delle riflessioni guardavo un video nell'essere specifico guardavo un video di bio blu questi che danno notizie in tempo quasi reale e su youtube e così guardavo una persona che era lì che si scaldava si arrabbiava e dicevo tra me e me questa persona molto probabilmente senza giudizio ovviamente dubito abbia fatto percorsi di crescita personale altrimenti non sarebbe così arrabbiato o forse li ha fatti ma forse ha bisogno di una mano tutti noi abbiamo bisogno di una mano non soltanto lui però mi sono messo un attimo così ad osservarlo io neanche ascoltavo più quello che lui diceva e dicevo tra me e me quella persona forse ha bisogno di essere aiutata forse anche no potrebbe dire lui però io dico forse sì e potrei essere di aiuto potrei essere di aiuto a tantissime persone che non hanno mai intrapreso un percorso di crescita personale ma magari hanno un grandissimo desiderio di poter crescere dentro sé e intraprendere una nuova strada subito dopo io ho pensato a tantissime persone allieve che io incontro quotidianamente ma ad alcune in modo particolare sapendo che hanno grande desiderio di realizzare dei progetti qualcosa per esempio in ambito commerciale migliorare la propria situazione economica perché magari non ce la fanno più di vivere male da quel punto di vista ebbene ho unito il tutto e ho detto creo un nuovo progetto questo nuovo progetto è molto interessante ma vediamo il tutto dopo un bel like dopo aver messo la campanellina avete presente gli iscriviti perché così vi arrivano le notifiche soprattutto per chi è nuovo e ora sigla va detto che io sinora per chi mi conosce ho pubblicato più di 1150 video quindi vi lascio solo immaginare cosa c'è dietro a questo canale però dobbiamo ammetterlo è molto di nicchia e molte persone potrebbero rimanerne scoraggiate addirittura avere un'immagine che la crescita personale sia qualcosa per pochi sia qualcosa dove è difficile accedervi il mio intento quindi è prima di tutto di essere utile per tutti per chi non ha mai sentito parlare di crescita personale non ha mai sentito parlare di inconscio quindi adottare un linguaggio molto più semplice argomenti molto più semplici attenzione lo dico subito non è che io smetto di pubblicare video nello stile precedente quello avuto finora anzi il mio intento è andare anche lì oltre con altre cosine nuove ma ne parleremo un passo alla volta però ecco il mio desiderio è far entrare la persona che io vedo camminare per strada e dire potrebbe esserci anche lui tra le persone che aspirano ad un cambiamento perché solo alcuni perché dobbiamo dividerci perché questa divisione della società tra chi sta crescendo e chi no perché non è diventare interessante ispirare e dire anche quella persona che è lì al bar seduto con lo sguardo triste che vorrebbe realizzare qualcosa nella vita beh voglio arrivare anche a lui questo è il mio intento però va considerata una cosa dopo più di mille conferenze dopo più di 8.000 incontri che ho fatto sinora già ve l'ho detto per chi mi conosce il 95 circa per cento delle persone che io ho in sessione mi chiede una mano su aspetti di carattere economico lavorativo quello sarà il focus sarà il punto centrale di questo nuovo progetto non è che io non tratterò argomenti quale l'ambito sentimentale ma ci sarà una priorità quindi se anche tu che mi hai sempre seguito dici dentro te però potrebbe tornarmi molto utile questo perché fabio comunque parlerà di cose che in linea di massima non ha nemmeno mai accennato cose semplici ok l'abc ma potrebbe essere molto interessante anche per me quindi ripeto voglio aiutare chi non ha neanche avuto mai in mano un libro di crescita personale ma casualmente arriva destino delle cose un video un mio video un video che parla di con un linguaggio facilissimo semplice argomenti semplici ma che gli permette di realizzare qualcosa dentro sé devo anche far presente che io dentro me ho pensato che sia meglio aprire un nuovo canale un nuovo canale di youtube un nuovo account poi alla fine ho detto no però faremo una cosa distingueremo la playlist le playlist sono argomenti con all'interno dei video insomma penso che lo sappiate un po tutti e sarà questo progetto sarà associato ad una playlist molto specifica il nome del progetto non è ancora stato cognato verrà cognato a breve perché io per tutte le cose che ho progettato nella vita ho lasciato che mi arrivasse da solo il segnale dopo circa sette dieci giorni più o meno clic mi arriva il messaggio mi arriva qualcosa che mi dice quello è il nome e così sarà anche questa volta quindi cogneremo il nome fra un po nel frattempo dicevo che i video quelli classici che ho sempre pubblicato continueranno non smetteranno di esistere anzi ripeto per la seconda volta ci saranno delle novità bene io ricordo a tutti che in descrizione ci sono quattro importantissimi link vi ricordo che il primo vi permette di accedere alla pagina del mio sito per avere un incontro a tu per tu con me skype messenger tranquillissimamente dal cellulare ci sono due moduli all'interno compilando il modulo 1 avrai la possibilità di avere un incontro a tu per tu con me anche tranquillamente dal cellulare dicevo con skype e messenger tanto ormai siamo tutti in smart working ormai è diventata un'abitudine nel giorno dell'incontro io ti farò un elenco di obiettivi e a seguito di questo elenco dove vedrai argomenti come l'ambito economico lavorativo sentimentale rapporto con gli altri coi figli o quello che vuoi tu perché poi mi dirai tu qual è il tuo obiettivo che predomina tra questi sempre che non sia un argomento tutto tuo che mi dirai in quel momento preciso poi avete il modulo 2 dedicato al percorso di chiaroveggenza un percorso a più date è previsto aver fatto almeno un incontro del modulo 1 almeno uno perché ci dobbiamo conoscere prima e poi non è detto che dica sì subito a tutti talvolta sono io che invito la persona a valutare il percorso poi viene rilasciato un diploma a risultato raggiunto poi avete le mie tre chicche l'ultima pubblicazione in ordine cronologico il destino nelle tue mani un saggio di psico biogeneologia tratto dai miei video quindi avete proprio il testo però con una grafica accattivante per riuscire a cogliere le informazioni più importanti e necessarie poi avete alla isha e il manoscritto segreto due saggi romanzati contando di personaggi e la cosa carina è che proprio attraverso questi due romanzi io riesco a darvi istruzioni su l'inconscio il passaggio di informazioni rispetto a quello che è il mondo della genealogia quindi dagli antenati a noi discendenti come venirne fuori in certe situazioni e quant'altro poi avete il link che vi permette di accedere alla pagina del mio sito dedicata ai miei video corsi seminari completi sono stato registrato in varie città avete le dispense stampabili potete guardarmi nei tempi che decidete voi vi arriva un email ci fate un click e il gioco parte subito nell'immediato quindi ripeto nei tempi che volete voi anche in anni e il bello è che potete riguardarvi quante volte volete e potete guardarli dal computer dal cellulare dal tablet da dove volete voi io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video e viva il nuovo progetto un abbraccio dal vostro fabionizac.net